E' lui per davvero o non è lui? Cosa? Grande! Allora, settimana scorsa abbiamo preso il livello 1 E ci ha fatto schifo, ci ha fatto Ci ha fatto putrido Sudro che non era altro Io mi sa che ritorno a lui Il 100k non scambiabile e il 50 scambiabile Sì, io torno a lui ragazzi Questo di mezzo manco a parlarne Tanto ragazzi non me li danno Prendiamoci sto 100k, è buona Prima di aprire sto glorioso pic Volevo vedere i premi stagionali Dammi questi premi stagionali Dammi questi premi stagionali Stagione 1 divisione elite 90 partite sul groppone abbiamo giocato Ai 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 200k è un mega raro Easy bro Riazzamento stagione 2 In base alle prestazioni della stagione passata Chi usa in divisione elite giocherà in divisione 2 E lo accetto Allora, mi accontenterei di un Neymar Siamo umili Se mi danno Neymar sono già contento Se poi proprio proprio mi vogliono dare che ne so un son Dai, vediamo che mi da Ecco, proprio lui Sì, 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 sì Proprio lui volevo Avevo chiesto Neymar Per fortuna che mi ha dato Neymar ragazzi Perché veramente Non sapevo dove sbattermelo Non sapevo dove sbattermelo Abbiamo 7 pacchetti Pacchetto oro premium Un 100k 200k 300k Un mega raro Un 75 più Un 50k È da scemi aprire tutto adesso Ve lo dico Apri, apri Tanto sono i tuoi Vero? Me la gioco 4 walkout 4 walkout in totale Quindi secondo me In 100k troviamo il doppio walkout No, è troppo Mi gioco il 4 walkout Allora, per farvi un po' Tremare le chiappette Sarebbe ad aprire il pacchetto oro premium Metti in caso che questo è subito walkout E questo Zero E questo Zero 75 più superiore Mamma mia Se mi dice male sto pacco Porco il demonio Da sto pacco esce dalla roba incredibile delle volte Allora 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 Mega raro Sono dei balordi ragazzi Mo quanti ne devo trovare? Un walkout a pacco Primo 84 Primo 84 più Non guardo Non guardo Questo è buono Questo è buono Questo è buono Oh, Marchignos Ragazzi Tanta roba Questo può diventare Vabbè ragazzi Siamo a due belli Fabigno E Marchignos Aiaiaiaia Eeeh Guarda che non sorridono più eh Questo è un signor pacco Ragazzi Aspettate 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 che devo Shhh Devo sentire Devo sentire il rumore Per favore Cazzo promuto Shhh Siamo a tre E siamo a tre Come la mettiamo? Come la mettiamo? Come la mettiamo ragazzi? Non pagate Non pagate ancora ragazzi Non pagate ancora ragazzi Perché se no loro credono sia fortuna Non pagate Mo vi apro il 50k L'unico scambiabile Ti prego Qui dammi qualcosa di bello Ma io sono lui Cioè io sono lui Cioè ho aperto i pacchi mercoledì Lui Apro i pacchi oggi Lui Seriamente Tanti bei giocatori Sono contento Però mi serve uno Belli sti giocatori Però mi dai quello che la gente Mi invidia Rendimi invidiato Invidiatemi Mi invidiate però eh Voi mi invidiate? Lo volevate voi Jesus Navas Jesus Nava è mio Jesus Nava è mio Col cappero che me lo prendete Allora faccio come con me Perché ti apro un 200k Apriamo il 100k Mamma mia Che zozza Ah no cazzo Werner Utilizzabile però Preferiva Preferiva Prefe 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 altro Prefe alto E dammi quell'84 più Dammi quell'84 più Dammi Oh Buono cazzo Donna Donna e rumbla Donna e rumbla Buonissimo Everton 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 Sio buono E mo c'è lui Il 100k Datemi quell'overall Datemi quell'overall Ve lo dico io 87 Questo è 87 Questo è 87 Oh Posso dire un lavoro onesto Posso dire un lavoro onesto ragazzi Dai eh Trattatemelo bene cazzo Trattatemelo bene sto ragazzo Con sto pacchetto Giocatori rari Mamma mia Quella è una scoreggia Col Con l'accendino eh Ma chi è sta fiaccolata Per fare impiegare i pacchi Oh Workout Un po' schifo DC Walkout Chi è Non è la portoghese Fino un'altra volta Ah no quello è Ruben Dias Che cazzo dico No sono ubriaco Allora 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 Qua abbiamo questa conclusione Facciamo 200k I 200k I 100k a questo giro Non lo stanno dicendo male eh Forse era meglio che stessi zitto Attenzione però Roberto Lewandowski Il torero È la madonna È la madonna Bella Praticamente è l'SBC Icona gratis Mi raccomando Mi raccomando Oh Rule breakers Che cazzo è Il cornetto No Pure testo fraido Dai Ma cosa guardi Ma cosa guardi Dio bello Ma cosa guardi Cerca il talento Cerca il talento che gli manca Altro 100k 84 più garantito Eh Signorini dell'Ia L'84 È garantito C'è bisogno che rimani sempre bassina Su Faccia uno sprint Faccia uno sprint Che fa l'argentino La cugna Oh Oh Almeno vediamo qualcuno Ah madonna Ma sotto zero Oh Subito walk out Attenzione Subito No Iorisse È molto simpatico Bueno Da un pacco del genere È tutto buono Apriamo quel 100k Goloso E siamo ripiombati No Ma che foto c'ha Cosa l'ha fatta Prima di entrare al catechismo No Un 100k così Ragazzi Brutto Questo gesto Guardate Non vi voglio tagliarle Non voglio tagliare Le gambe ragazzi Vi do Vi concedo Prima di aprire 55 È corona Buono Due Attenzione Il 100k In giro È incredibile come tu Con i pacchetti più brutti Della storia Stia trovando Dei giocatori Incredibile È tutto È tutto incredibile È un mega raro Dai via Aria al cazzo Il mega raro Attenzione Walk out Tonino E Tonino E Tonino Questo c'è pure Gnebri E a morte sua Delizioso Spagnolo Tiago Dai Ci accontentiamo 100 cappone Lo guardo male Lo sto guardando male Con aria di sfida Sto parlando con te Sto parlando Ci pensa al dado Ci pensa al dado A te Ho provato dieci volte Bello Ho imballato il mercato Con sto zoom Allora per questa icona Voglio che tutti voi Del party Vi smutate Al mio tre Un urlo selvaggio Dobbiamo urlare Il nome di quello Che secondo noi Trova Va bene Uno Due Tre Ferdinand Ferdinand Che che ha detto Ferdinand? Mi sei andato vicino Che bello No Che bello Che bello Sono la fascia piotta A Ferdinand C'è la cazzo mia Apriamo Lo scambiabile Apriamo lo scambiabile Cosa sta succedendo E così che lo facciamo A sto ragazzo Con gli 85 Devi svegliare Ti do dimorso Se non gli trovi qualcosa A sto ragazzo La taglio No la taglio Vado a prendere il coltello Taglio la mano Ragazzi Che gli sia da lezione Pacchetto Icona Base Te lo guardi O non lo guardi Non lo guardo Vai Te non lo guardi Dai allora non lo guardo Nemmeno io Dimmi quando mi posso girare Ok lo apro prima Dopo apro prima io gli occhi Va bene Vai vai Oh io mi trovo Cosa Grande Ah bello Ho fatto cucù dalla manina Ho fatto cucù dalla manina Ho detto E lui per davvero Cioè E lui per davvero O non è lui Porca madonna Flabel Che bello Che bello Buttano c'è squadra Non lo posso posizionare io Visto come si è Visto come Come si è inserito bene Che bello è Sono innamorato Come tiね Come si è inserito bene Come si è inserito bene Buen